Salve a tutti, nell'ottica di riorganizzazione degli enti locali da parte della regione toscana abbiamo preparato un'interrogazione che va a chiedere conto dei beni immobili dell'ex comunità montana dell'Appennino Pistoiese. Vi ricordo che la comunità montana dell'Appennino Pistoiese detiene innumerevoli beni. La funivia di Cutigliano, alla Betone ci sono i box e il piazzale delle piramidi, la stazione di arrivo e di partenza della funivia, il refugio La Grande Baita in località Doganaccia, Villa Vittoria, una centrale a biomasse con teleriscaldamento nel complesso delle scuole di San Marcello e nella stessa Villa Vittoria. Ecco, in questa riorganizzazione vogliamo chiedere conto alla regione a chi verranno destinati questi beni. Non si capisce in questo caos di riorganizzazione che è partito con la riforma del Rio, che voleva abolire le province, invece siamo ancora qui a curarci le ferite da questa riforma. Quindi chiediamo alla regione questi beni a chi andranno affidati, perché sono beni sul territorio che, secondo noi, sarebbe bene lasciare al territorio e ai cittadini. Grazie. 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 Grazie.